Il mese di febbraio avanza, la All Elite Wrestling ormai sta entrando comunque in quella che è l'aria, l'atmosfera che preparerà anche le ultime parti di Revolution, un evento che ormai diventa sempre più importante per la compagnia di Tony Khan e anche quest'anno sicuramente sarà un grande apripista in vista poi di altri show importanti che ci saranno nei mesi successivi. Ma intanto stiamo vedendo comunque delle puntate settimanali decisamente frizzanti, stiamo vedendo anche dei volti nuovi all'interno della All Elite Wrestling anche se magari sono provvisori, sono degli ospiti ma stanno mostrando delle cose molto gradite e sto parlando delle stelle del CMLL, il consegno mondiale dell'Uccia Libre. Ma ancora una volta benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore con voi come sempre, il vostro Draco pronto a condurvi in una nuova narrazione questa volta parlando appunto di un incontro che davvero devo dire mi ha lasciato un po' il segno perché per quanto magari si possano sentire grandi lodi, comunque si possano leggere e ascoltare dei commenti molto positivi riguardo alle gesta di alcuni atleti, beh poi effettivamente vedere direttamente con i propri occhi è sempre una cosa diversa ed è stata per me una cosa diversa vedere finalmente anche un altro dei nomi del CMLL diciamo uscire un po' fuori da quello che è soprattutto l'ambito messicano e misurarsi in una scena diversa tra l'altro con un grandissimo performer come Brian Danielson e in questo caso si tratta di Essex Hero un personaggio che sostanzialmente ho visto appunto come già detto in AEW per la prima volta direttamente in un match uno contro uno perché negli anni magari mi è capitato di vedere qualcosa del mondo della luce libre però soprattutto la AAA di CMLL molto meno ho recuperato qualcosa che è gratuito magari sui vari canali YouTube dove vengono distribuiti i loro contenuti però ecco diciamo non sono proprio gli show importanti quindi non capita magari di vedere un match uno contro uno oppure un mano a mano come diciamo direbbero gli intenditori gli esperti ecco fra magari atleti del del settore e quindi dato che nella scorsa settimana abbiamo visto effettivamente questi lottatori messicani arrivare in AEW appunto da rappresentanti del CMLL ho pensato magari di mettere un focus sul primo uno contro uno che abbiamo visto partendo dal fare però secondo me una dovuta introduzione a uno dei nomi nello specifico coinvolti nel match ovvero proprio Essex Hero che appunto spero di non sbagliarne la pronuncia potrebbe tranquillamente capitare dato che non ho familiarità con questo tipo di nomi a differenza magari di quelli americani o giapponesi però appunto Essex Hero quello che sostanzialmente per quello che mi è parso di capire è un al di là del mago nel ring come appunto recita il banner ma è un mago anche dal punto di vista del personaggio meglio uno stregone come recita il suo nome che tradotto dal comunque dallo spagnolo dalla lingua vorrebbe dire appunto stregone diciamo che in un certo senso visto poi anche quello fatto nel ring dato che stregone può far pensare magari più a non lo so prendete un personaggio come Loki no come il trickster l'ingannatore beh diciamo mago ha una connotazione più positiva visto poi quello che ha fatto Essex Hero all'interno nel ring nel quale lui comunque ha tantissimi anni di esperienza pensate comunque lotta da più di vent'anni quindi una carriera molto longeva è stato anche membro di una stable i Lossi Infernalis ed è arrivato anche ad essere detentore di una delle cinture singole del CMLL tra l'altro neanche in tempi chissà quanto lontani dato che l'ha persa comunque nel 2022 quindi diciamo non appunto molto tempo fa non si tratta di un periodo molto distante ergo comunque ancora uno dei nomi all'interno del CMLL che vengono abbastanza considerati anche per quanto riguarda magari battaglie un po' più importanti il suo ingresso nel comunque nell'arena dell'AW in questo scontro uno contro uno con Brian Danielson svoltosi nel trentatresimo episodio di collision fa capire anche ulteriormente qualcosa riguardo quello che vuole raccontare questo luciador questo personaggio arriva con queste queste pietre infuocate sparando comunque dei dei gettiti di fuoco durante il suo ingresso una con anche dei movimenti molto particolari che ha fatto anche durante la puntata di AW Dynamite quando insieme agli altri luciadori è andato ad attaccare John Moxley ecco se gli altri magari erano un po' più baldanzosi per esempio eh volador junior mistico eh vestiti eleganti comunque e ehm abbastanza arroganti negli atteggiamenti e si sero con questo modo di muoversi molto sorgnone molto particolare a mio avviso era già lì in quel contesto quello che un po' si distingueva di più eh rispetto agli altri a collision a mio avviso davvero ha fatto vedere tutta questa differenza oltre che anche la sua grande eh esperienza quindi appunto un ehm diciamo uno stregone di personaggio e anche poi in un certo senso all'atto pratico e il match ha visto l'American Dragon Brian Danielson triunfare sì su esisero a un esisero che davvero gli ha fatto sudare le proverbiali sette camice a Brian Danielson almeno poi dal mio punto di vista io premetto sono un grande tifoso e supporter storico dell'American Dragon però secondo me in questo match comunque sia si è cercato di far vedere il più possibile comunque quello che è il valore di eh esisero quanto può essere pericoloso perché comunque ehm diciamo che io in primis ma un po' è una una cosa generale si è abituati a pensare magari alla luce a fibre come un mondo pieno di tante mosse acrobatiche tanti spot spettacolari in all elite wrestling per esempio vediamo commander eh vediamo spesso il lico del vichingo come ospite dalla eh triple A quindi insomma vediamo atleti molto spettacolari luce a bros per esempio e si è ero così come magari in un certo senso anche un rush no? Ha fatto passare a mio avviso un messaggio diverso innanzitutto è stata mostrata la sua grande tecnica eh i due hanno iniziato comunque con degli scambi tecnici cercando un po' di mettere pressione l'uno all'altro ma esisero ehm è andato diciamo a portare a segno anche dello striking che magari non è frequento comunque non è eh identico da eh quello che vediamo in Giappone o comunque che possiamo vedere da un giapponese come per esempio anche un conosca però comunque a mio avviso uno striking davvero di ottimo livello che ha fatto la sua grande figura comunque con Brian Denelson che ovviamente ha cercato di eh diciamo far vedere quanto veniva messo a dura prova dalle eh dalle offensive dell'avversario che ovviamente è stato anche abbastanza agile abbastanza eh dinamico come ci si può aspettare da un luciador ma nel complesso diciamo prendendo un po' tutto il pacchetto è stato anche comunque un ehm un performer che ha mostrato della eh della diversità il tutto tra l'altro si va a chiudere in un modo che appunto va a favore di Brian Denelson da un punto di vista del risultato ma che sostanzialmente è un po' un eh full open da un punto di vista invece della competitività perché comunque nelle eh fasi finali dell'incontro che è durato quindici minuti eh diciamo si è ritornati da quello scambio di colpi rudi alle eh invece fasi un po' più tecniche con Brian Denelson che è riuscito a trovare il giusto momento per eseguire un eh roll up vincente e quindi ottenere la eh la vittoria venendo poi attaccato ma eh tratto in salvo anche dagli eh dagli altri membri del Blackpool combat club eh diciamo che appunto sostanzialmente non va a penalizzare nessuno questa cosa Brian Denelson si prende la sua vittoria come nome di casa ma esi sera ne esce totalmente in piedi non è stata comunque una sconfitta con uno schienamento un po' più netto quindi davvero c'è stato anche grande rispetto da parte della All Elite nei confronti di eh questo ospite nei confronti della compagnia di cui eh lui fa parte e questo scontro va eh in qualche modo a mettere un altro tassello di una puntata di collision che davvero dal mio punto di vista è stata molto molto godibile oltre che davvero intensa perché questo non era neanche il primo match della puntata il primo match della puntata è stato Eddie Kingston eh contro Brian Kitt l'incontro che sostanzialmente poi ha eh confermato l'aggiunta di Brian Kitt al roster della eh All Elite Wrestling Brian Denelson è entrato nel post match andando a eh ignorare Eddie Kingston a congratularsi invece con Brian Kitt e poi al rientro diciamo al ritorno dalla pubblicità è partito questo incontro quindi davvero il pubblico era già molto caldo e ha davvero supportato e partecipato alla grande a questo match rendendolo poi nel complesso una prima volta secondo me decisamente da non dimenticare e da cui magari iniziare a sognare iniziare un po' a sperare che effettivamente quello di cui si va tanto chiacchierando diventi realtà ovvero la forbidden door che si allarga e magari oltre alla New Japan Pro Wrestling iniziare a eh comprendere anche il CMLL certo sono sicuro che in giro nella community nel web in generale ci saranno anche eh tanti magari che non saranno contenti di eh vedere una All Elite che va a portare altre persone nuove comunque all'interno di eh dei suoi show o magari di show occasionali congiunti però personalmente non potendo seguire un po' tutto il wrestling del del mondo sono davvero contento se ci dovesse essere un'apertura ulteriore a un settore come quello del CMLL che davvero ha tanti performer molto molto interessanti e tra l'altro vedremo anche uno step successivo in questo confronto molto eh diciamo pieno d'animo pieno già d'astio comunque fra gli atleti della All Elite Wrestling e quelli del CMLL infatti questo match sostanzialmente va a preparare una battaglia fra il Blackpool Combat Club ed il CMLL battaglia che ci sarà nella eh puntata di Dynamite che si terrà sostanzialmente ehm questa settimana se state guardando il video appena uscito nello specifico invece sarà la puntata di Dynamite 227 che si svolgerà a Phoenix in Arizona e che vedrà Brian Denelson, John Moxley e Claudio Castagnoli andare contro Esisero, Volador Junior e eh Mascara Dorada che si tratta però del nuovo Mascara Dorada quindi l'ex Panterita del Ring Junior che adesso ha abbracciato questa nuova identità e sta tra l'altro anche eh scalando abbastanza ehm bene le gerarchie del CMLL ma ovviamente di queste cose diciamo vi potete informare anche seguendoci sui social abbiamo chi nel nostro staff diciamo si occupa comunque di monitorare il mondo della luce a libre il buon Alessandro che sta cercando appunto di dare il suo contributo e quindi ci sarà sostanzialmente una guerra dei mondi uno scontro fra ambienti diversi in una puntata di Dynamite che sarà davvero molto molto ricca pensate comunque oltre questo match ci sarà anche un eh diciamo rematch fra Chris Jericho e Konoska e Takeshita che si sono affrontati in Giappone l'autunno scorso e si affronteranno nuovamente sempre eh a Dynamite ci sarà il terzo round fra Angman Page e Swerve Strickland il match valido per i titoli di coppia dove tra l'altro Sting andrà all'assalto delle cinture insieme a Darby Allin però a mio avviso questo scontro per quanto non ha titoli in mezzo non ci sono futuri eventi congiunti annunciati non sappiamo effettivamente quello che potrebbe succedere però a mio avviso potrebbe regalare davvero grande grande spettacolo e voglio lanciarmi voglio davvero essere ottimista potrebbe anche rubare la scena al ehm al resto dei match comunque delle situazioni che ci sono all'interno della puntata magari è un po' questo antipasto di quindici minuti frizzanti e belli avuti a collision però come già detto sono davvero molto contento di questa nuova apertura della AW verso il mondo messicano ovviamente però come sempre ora la parola passa a voi quindi mi raccomando se non l'avete già fatto e comunque vi piace quello che facciamo lasciateci i vostri like ma soprattutto volate qui sotto nei commenti diteci quello che ne pensate sia di una possibile collaborazione un po' più stretta fra la all elite wrestling e il consegno mondial del luce alibre e poi anche cosa vi aspettate dal dal match imminente comunque dal trio smatch che ci sarà a dynamite e da future eventuali dinamiche tra le due compagnie dal vostro drago è tutto noi ci vediamo come sempre a un prossimo video qui su brisling unico amore